Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la pagina politica perché le regioni del mezzogiorno si sono unite per chiedere al governo l'estensione dell'alta velocità al sud. A Campobasso, a Palazzo Vitale, la sottoscrizione dell'appello da parte delle regioni Molise, Abruzzo, Basilicata e Puglia. Appello rivolto naturalmente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In apertura Anna Maria Di Matteo. Ha fatto tappa anche a Campobasso il tour itinerante dell'associazione L'Isola che non c'è, che sta portando avanti con determinazione in tutte le regioni del mezzogiorno una campagna a favore dell'estensione dell'alta velocità al sud. Un sud tagliato fuori dalle grandi opere di infrastrutturazione pagando un prezzo pesante in termini di sviluppo economico e di crescita. A Palazzo Vitale sono arrivati sindaci anche fuori dal Molise e rappresentanti delle regioni Abruzzo, Basilicata e Puglia per sottoscrivere un appello al quale hanno già aderito 180 testimonial che sarà presentato al presidente del Consiglio Conte. Chiediamo che il gap infrastrutturale, in particolare quello relativo alle ferrovie tra nord e sud sia colmato. Non è più possibile non avere treni veloci al sud, non è più possibile sentirsi cittadini inferiori. Non siamo figli di un Dio minore, siamo figli dello stesso Dio e vogliamo essere trattati con lo stesso rispetto. L'alta velocità si deve realizzare più che altro nel tratto molisano che è sull'Adriatico, quello che poi a Monte all'Abruzzo e a Valle alla Puglia, guardando l'Italia dall'alto verso il basso. In Molise abbiamo la necessità di elettrificare, lo stiamo facendo, Roccaravindola a Campobasso e abbiamo la necessità di ripristinare il tratto ferroviario Campobasso-Termoli. Abbiamo la necessità di avere, ripeto, l'alta velocità sul tratto, per capirci, Termolese, mentre all'interno abbiamo la necessità di avere i treni, treni comodi, treni che siano caldi d'inverno, treni che siano condizionati, con aria condizionata d'estate. I treni, i binari ed i treni. La mia presenza qui con il Presidente Toma, con gli altri rappresentanti pure della Puglia, dell'Abruzzo è significativa perché quello che si chiede al Governo centrale è che ci sia una rispondenza giusta a quelle che sono le necessità del nostro territorio, perché senza infrastrutture non si va da nessuna parte. Il potenziamento delle infrastrutture, della rete ferroviaria, della rete viaria fa sì che tutto si sviluppi e questo è un volano perché favorisce tutto ciò i trasporti, soprattutto l'occupazione, soprattutto il lavoro. Abbiamo diritto ad avere una infrastruttura valida, abbiamo diritto ad avere anche al sud treni più veloci. La Puglia è sempre più vicina al Molise, anche in questo caso, oltre agli accordi già in essere. Sì, certamente. Stiamo lavorando in maniera molto intensa con le strutture regionali, sia nei progetti di cooperazione, quindi per ricostruzione del famoso corridoio 8 e il Tentì, e sia stiamo lavorando in questo progetto per aumentare l'alta velocità delle nostre infrastrutture ferroviarie e quindi è uno sforzo congiunto che facciamo sulle reti nazionali. Abbiamo l'obiettivo di sviluppare la rete adriatica, cosa che in questo momento non è in piedi, quindi ci serve proprio uno sviluppo congiunto dell'infrastruttura ferroviaria nell'auto adriatico, oltre che nell'auto ovest c'è quello che porta a Roma. L'archeologo di fama mondiale Salvatore Settis, accademico e presidente del Consiglio Scientifico del Louvre, è stato l'ospite d'onore della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del Molise. La cerimonia si è svolta questa mattina a Campobasso ed è stata la prima con al vertice il nuovo rettore Luca Brunese che ha parlato di un'università in buona salute. C'era per noi Enzo Luongo. Sono stati i temi legati ai beni culturali e al paesaggio del Molise a dovinare la cerimonia di apertura dell'anno accademico all'Università del Molise. Una scelta obbligata, visto la presenza come ospite d'onore di un nome di fama mondiale del campo dell'archeologia, Salvatore Settis, accademico dei lincei e presidente del Consiglio Scientifico del Louvre. In apertura di cerimonia i saluti del sindaco di Campobasso Roberto Gravina che ha parlato di progetti comuni con l'Ateneo. Nel futuro ogni azione che progetteremo insieme, ha detto Gravina, avrà un valore che andrà ben oltre la realizzazione del singolo progetto perché sarà un nuovo momento di semina del quale c'è bisogno per riprendere a far crescere il nostro territorio. Il presidente della regione Donato Toma ha sottolineato invece l'impegno della regione a sostegno dell'archeologia, ha poi elencato una serie di eventi positivi arrivati nelle ultime settimane. La grande stampa internazionale che ha acceso i riflettori sul Molise, la candidatura di Isernia Capitale della Cultura, i dati che confermano un incremento dei visitatori nei musei e nei siti archeologici della regione. Infine la molisana Francesca Colavita nel team che ha isolato il coronavirus. Da Settis qualche prezioso consiglio al Molise che gode ora di una importante vetrina internazionale. Io credo che il Molise dovrebbe puntare in primissimo luogo sul paesaggio e dunque mostrare la capacità di conservarlo al massimo. E poi sulla connessione stretta fra il paesaggio e i beni archeologici che in Molise è particolarmente chiara mi pare e che però deve essere utilizzata e mantenuta e anche promossa in modo adeguato. Io credo che con una politica di questo tipo e si capisce con degli addetti a questa politica, con degli addetti specializzati che abbiano tutte le competenze tecniche sul fronte del paesaggio, sul fronte dell'archeologia ma anche dei beni culturali e anche dell'archeologia post-classica naturalmente. Io credo che in questa direzione ci sarebbe moltissimo da fare. Il rettore Luca Brunesi alla sua prima inaugurazione dell'anno accademico al vertice dell'Ateneo essendo stato eletto nello scorso mese di maggio nella sua relazione ha parlato di una università in buona salute. Nella prima diagnosi che l'università sta molto bene. I fondamentali del bilancio sono ottimi, abbiamo tante iniziative in cantiere quindi siamo chiaramente preoccupati un po', lo diceva già il professor Settis per quello che è il quadro nazionale ma noi dal nostro punto di vista abbiamo grandi idee per il futuro quindi siamo bene. Tutti questi riconoscimenti che stanno arrivando al Molise, il New York Times che parla di noi possono aiutare anche l'università secondo voi? Sicuramente sì perché in realtà io immagino l'università come centro culturale di sviluppo sociale e di tante attività all'interno della regione quindi è chiaro che richiamare l'attenzione sulla regione Molise fa bene anche al Molise ovviamente e fa bene anche all'università. Credo anche che tante cose che faremo a cominciare dall'accordo sull'archeologia, dalla presenza di tanti ospiti importanti come quello del professore Settisoggio alla cerimonia di inaugurazione servano anche a questo, a far capire che esiste una trasversalità nuova che consentirà grandi progetti di sviluppo. Nel campo archeologico una delle cose importanti, abbiamo un patrimonio bellissimo in Molise, poco, si è lavorato forse poco sulla valorizzazione, più sugli scavi, poco sulla valorizzazione, si sa poco di quanto c'è in Molise. Dal canto loro, gli studenti attraverso il loro rappresentante Nicolo D'Amico hanno chiesto una maggiore attenzione alle istituzioni locali a partire dai problemi dei pendolari, sempre alle prese con la cronica carenza di infrastrutture e servizi. Torniamo a parlare dell'importante scoperta fatta da un gruppo di ricercatori dell'Istituto Spallanzani di Roma che ha consentito di isolare il virus del nuovo coronavirus. Nel team c'è anche infatti la giovane virologa di Campobasso, Francesca Colavita, e sentiamo ancora Anna Maria Di Matteo. Parla anche Molisano, l'importante ricerca portata a termine da uno gruppo di scienziati dell'Istituto Spallanzani di Roma che ha consentito di isolare il virus del coronavirus che sta invietendo vittime in Cina e creando allarme in tutto il mondo. Nell'equipo di ricercatori che ha fatto l'importante scoperta infatti c'è Francesca Colavita, 30 anni, virologa di Campobasso. È la più giovane del team, composto per la maggior parte da donne, guidato da Maria Capobianchi, 67 anni, dal 2000 allo Spallanzani, affiancata da Concetta Castilletti, 56 anni, responsabile dell'unità dei virus emergenti. Francesca lavora da sei anni nel laboratorio di virologia e biosicurezza dopo diverse missioni in Sierra Leone per fronteggiare l'emergenza ebola. Un risultato importantissimo, quello raggiunto dai ricercatori dello Spallanzani, il primo in Europa che consentirà di combattere meglio il virus. Tutte le informazioni sono state depositate per essere messe a disposizione della comunità scientifica internazionale. A dare l'annuncio il ministro della Salute Speranza, nel corso di una conferenza stampa tenuta allo Spallanzani, dove si trova tuttora ricoverata la coppia di cinesi contagiata dal coronavirus. Aver isolato il virus significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccarne la diffusione. Ora sarà più facile trattarlo. Così il ministro, che ha avuto parole di elogio per il team, nel quale spicca la figura della giovane virologa morisana che all'Istituto Spallanzani lavora come precaria. Sembrerà strano, ma per me studiare il virus è stimolante, una sfida costante, una battaglia in cui bisogna stare sempre allerta, ha dichiarato. Per quanto mi riguarda, ho solo fatto il mio lavoro, quello che devo e mi piace fare, nulla di più. In questi giorni tutto è amplificato, abbiamo avuto successo. La ricerca è questa, ha commentato con una modestia che quasi spiazza, vista la rilevanza della scoperta. La notizia ha fatto immediatamente il giro del mondo, un risultato che apre nuova strada a cure e a vaccini. E in Molise la soddisfazione è doppia, perché l'importante traguardo è stato raggiunto grazie al prezioso lavoro di una nostra corregionale. I giovani sono il futuro e quelli molisani si fanno onore in Italia e all'estero, ha dichiarato il presidente della regione Donato Toma nel congratularsi con la giovane virologa. Un fatto che, oltre a inorgoglierci come italiani molisani, dimostra quanto siano preparati i giovani laureati del Molise e quanto sia valido il nostro sistema sanitario nazionale, che nonostante le tante vicissitudini che lo attraversano, resta uno fra i migliori al mondo. Congratulazione alla dottoressa Francesca Colavita per un prosiego brillante della sua carriera, ha concluso Toma. E di strada Francesca Colavita ne farà c'è da giurarci. Parliamo ora dell'Unilever, perché è rimasta bloccata per tre ore la direttrice viaria Campobasso Roma-Napoli, proprio per il corteo dei manifestanti Unilever che insieme a sindaci, studenti e dipendenti del Neuromed hanno sfilato lungo la statale 85, prima dal nucleo di Pozzilli a Rocca-Ravindola e poi in senso inverso. C'era per noi Enzo Di Gaetano. Unilever Unilever Per la multinazionale anglo-olandese sul banco degli accusati, anche perché, come ha riferito qualcuno tra i dipendenti, l'industria di Pozzilli sarebbe uscita dalla SPA madre e sarebbe stata trasformata in una SRL. Poi l'ammodellamento delle linee produttive è stato deciso solo per lo stabilimento in Lombardia. La verità è che, senza agevolazioni contributive, con una rete dei trasporti e ferroviaria inadeguata e fatiscente come quella molisana, produrre a Pozzilli costa più che produrre in Lombardia. In Molise, sempre addetta dai manifestanti, invece di investire su strade e ferrovie, si è deciso di investire sui tratturi. Insomma, vecchie storie e vecchie polemiche che oggi sono affiorate tra gli slogan lanciati da un corteo composto dagli operai Unilever, dai sindaci, dal presidente della provincia, dai dipendenti Neuromed e da tanti studenti che hanno voluto sfilare insieme ai loro genitori. L'Unilever oggi vale 500 posti di lavoro, tra diretti e indotto. Il Molise non può perderli. Intanto, durante la manifestazione, è arrivata anche la notizia della convocazione di un tavolo ministeriale per i sindacati, un segnale di speranza. Allora, questa può essere la chiave di volta, perché oggi iniziamo un percorso con la Regione, ma sicuramente questa è una trattativa che deve avere un tavolo nazionale per trovare la sua soluzione. Il Mise è riuscita finalmente a darci questa data, che è giovedì prossimo alle 12.30, dove si incontreranno la parte sindacale, la parte aziendale e chiaramente la parte politica regionale, per trovare una sintesi di quelle che sono le possibili soluzioni di questa vertenza complicatissima. Scarati, ma con il Molise che entra nell'obiettivo 1 nel 2021, non si può trovare una sinergia con la Regione? Certamente, ma proprio questa è la strada che avevamo indicato sin da subito e ci sembrava immotivata e forviante la voglia aziendale di non dare una risposta certa sulla continuazione dell'operatività del sito di Pozzigli. Questa è stata l'anomalia più grossa, visto che ci sono tutte le condizioni, ahimè purtroppo, perché siamo regrediti economicamente, del rientrare nell'obiettivo 1. Cogliamo questa occasione per dare nuova opportunità a questo territorio che dopo aver perso l'ITR, se dovesse perdere anche l'Unilever, sarebbe la chiusura definitiva, ma non della provincia di Senni, abbadate bene, della Regione Molise che non avrebbe motivo di esistere, perché è una Regione che ha una vitalità solo lungo la costa, non è una Regione. Adesso o la politica regionale lo capisce, perché avremo al nostro fianco, sono sicuro, il Ministero di competenza, o se no tutti quanti dobbiamo cambiare mestiere, dai politici e magari anche a qualche papavero che abbiamo nei piani nazionali e europei, perché qua la sensibilità deve essere massima da parte di tutti, si gioca il futuro dei molisari. E ora parliamo di un episodio, di un brutto episodio ai danni dell'ex assessore regionale e presidente della provincia di Campobasso, Nicola D'Ascanio. Manuela Iorio. Un'auto completamente incendiata, proprio davanti casa, è successo a Montenero di Bisaccia, domenica sera poco prima di cena. Non è però una macchina qualunque, ma quella di Roberto D'Ascanio, figlio di Nicolino, già presidente della provincia di Campobasso, ex assessore regionale, ex sindaco di Montenero e ora consigliere comunale di minoranza, da anni impegnato contro le speculazioni edilizie urbanistiche del suo territorio. La vettura, una Mercedes classe A, in pochi attimi è stata avvolta dalle fiamme, alte fino a 4 metri e alimentate da un vicino tubo del metano interessato anch'esso dal rogo. Sono stati attimi di paura per la famiglia di D'Ascanio, costretta ad abbandonare la casa temendo il peggio. I vigi del fuoco hanno spento l'incendio. Dell'auto è rimasto solo uno scheletro di lamiera, ma ora si trova sotto sequestro perché c'è la convinzione che sia stata un'azione volontaria. C'è un video, infatti, registrato dalla telecamera di videosorveglianza privata della casa di D'Ascanio, che punta proprio sull'ingresso dove c'è il cancello e dove era parcheggiata l'auto. Si vede chiaramente una figura che si avvicina alla macchina e che poi si allontana, subito dopo il rogo. Il filmato è stato anche consegnato agli inquirenti. Nicola D'Ascanio è convinto che si tratti di un atto intimidatorio legato all'attività politica. Il consigliere ha dichiarato di essere da tempo oggetto di violazione di privacy e di stalking e che l'incendio della vettura è solo l'ultimo di una serie di atti di persecuzione nei confronti suoi e del figlio. La procura ne è già al corrente perché ho presentato già denunce per questioni legate a contenziosi aperti con alcuni soggetti del posto, ha dichiarato D'Ascanio a Telemolise. Questioni legate a presunti illeciti amministrativi, a speculazioni edilizie segnalate da D'Ascanio nell'ambito della sua attività di consigliere comunale di opposizione. Ho dato mandato ai miei avvocati di presentare una nuova denuncia segnalando le persone che riteniamo sospette, ha aggiunto sicuro di sapere chi siano i mandanti del vergognoso atto, persone che da tempo minaccerebbero lui e il figlio che lavora come ingegnere. D'Ascanio ha riferito che anche domenica mattina proprio il figlio era stato costretto a chiamare i carabinieri perché eseguito e fotografato mentre si trovava a fare una passeggiata in località Costa Verde, poi la sera l'incendio dell'auto. Del caso è stata informata la procura e i carabinieri si stanno occupando delle indagini. Torniamo alla politica, spostare in avanti il termine della consegna dei controlli dal 31 dicembre 2019 al 30 aprile 2020 non risolve la questione delle caldaie. A dirlo è Aida Romagnolo, sottolineando che la proposta dell'assessore Cavaliere approvata da tutta la giunta regionale è un provvedimento dal quale i cittadini non ricaveranno nulla di buono e ha solo il sapore della beffa. Secondo la responsabile di prima il Molise, Aida Romagnolo, allungare i termini non serve a nulla e ancora una volta i provvedimenti del governo regionale si dimostrano inefficaci. Situazione politica invece sempre più rosea per il sindaco di Isernia, Giacomo D'Apollonio, che dopo l'ultima presa di posizione dei popolari e dopo il passaggio della Fabia Onorato nel gruppo di Di Baggio ha praticamente tutta l'assemblea civica schierata con lui. Un risultato imprevedibile. Solo qualche mese fa sentiamo Enzo Di Gaetano. Tutto in maggioranza non è uno scherzo ma la verità è che oramai dopo il passaggio dell'ex PD Fabia Onorato. Nelle fila del gruppo di Roberto Di Baggio e dopo l'avvicinamento in corso tra i popolari e il gruppo di Michele Orio, davvero a Palazzo San Francesco l'unanimità non è più un miraggio. Tutti col sindaco. Restano ufficialmente in minoranza solo il grillino Bottiglieri e l'ex PD Rita Formichelli. Non si era mai visto a Isernia. Un vero e proprio successo personale per il sindaco? O c'è dell'altro? In questa pacificazione generalizzata in un consiglio comunale sempre segnalato dalle cronache per la sua rissosità? Lo abbiamo chiesto a Giacomo D'Apollonio. Non è assolutamente così perché i popolari vanno per conto loro. Hanno detto che non appoggiano la maggioranza quindi voteranno come riterranno. Io questo lo dicevo quando ero in opposizione. Riterrò secondo la mia coscienza, secondo quello che va bene per la città. Questo dice uno di opposizione, non lo dice uno che condivide. La maggioranza condivide, si condividono gli obiettivi insieme, si sposa un programma comune e si va avanti fino in fondo. Chi si dissocia non sta più in maggioranza. Quindi abbiamo i numeri, se no a questo punto io ne avrei preso atto e avrei misere i comportamenti di conseguenza. I numeri ce li abbiamo ma sono risicati. Questa è la situazione del Comune di Sede. E' un pezzerino la ricandidatura? Troppo presto per parlarne. Adesso togliamoci i problemi, cerchiamo di... Però non la smentisce. Non smentisco niente perché insomma noi dobbiamo andare avanti ancora con lavoro. Io so che c'è qualcuno già in campagna elettorale. Per quanto mi riguarda questo assolutamente non è così. E ora apriamo la pagina giudiziaria perché si è svolta oggi a Larino la nuova udienza sul caso di Giada Vitale, la ragazza di Porto Cannone abusata dal parroco del paese durante l'adolescenza. Il suo difensore ha infatti presentato posizione alla richiesta di archiviazione del PM per i fatti che si erano consumati dai 14 ai 17 anni di Giada. Sentiamo ancora Manuela Iorio. Il caso di Giada Vitale è abusata dal parroco di Porto Cannone quando era una ragazzina e tornato nuovamente in aula. A Larino infatti c'è stata udienza davanti al giudice per le indagini preliminari Rosaria Vecchi. Il difensore di Giada, Giuseppe Durbano, ha presentato posizione all'archiviazione decisa dal pubblico ministero per i fatti successi dai 14 ai 17 anni. La posizione di Don Marino Genova era già stata stralciata nel primo processo in relazione a questo periodo. Il PM Ilaria Toncini in seguito aveva deciso di riaprire il fascicolo, ritenendo poi invece di archiviarlo. Giada, insomma, avendo raggiunto il 14esimo anno di età, sarebbe diventata più consapevole e quindi consenziente. Un'assurdità secondo la difesa che ha presentato opposizione. Ci siamo posti alla richiesta di archiviazione che aveva formulato la procura e quindi auspichiamo e abbiamo buone probabilità di ritenere che non sarà accolta la richiesta di archiviazione e quindi procederà a questo giudizio anche nella parte nel reato consumato successivamente al compimento del 14esimo anno di età. Un momento che Giada sta vivendo con grande dolore, ritenendo di aver subito un'ingiustizia anche da parte della procura. Con estrema attenzione perché comunque la vicenda giudiziaria è stata veramente molto complessa molto ampia e già quello sdoppiamento di fascicoli aveva prodotto poi un proliferare di procedimenti che sicuramente hanno un impatto psicologico pesante sulla vittima che aspetta di ottenere giustizia. Il giudice entro cinque giorni deciderà se accogliere l'opposizione dell'avvocato d'Urbano. In aula c'era anche il difensore di Don Marino Genova che ha chiesto invece l'accoglimento dell'archiviazione, così come deciso dalla stessa procura. Il sacerdote per gli abusi commessi quando Giada aveva 13 anni è stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione, ridotti a quattro anni e dieci mesi poi in appello. La Corte di Campobasso aveva fatto valere l'attenuante della minore gravità, sostenendo che la violenza non era stata consumata fino in fondo attraverso atti completi. Questo nonostante i giudici siano stati concordi nel definire Don Marino, oggi 63 anni, protagonista di violenza sia fisica che psicologica e di comportamenti subdoli nei confronti di Giada. E intanto la procura, sempre di Larino, ha concluso le indagini relative a un fatto di cronaca che era avvenuto a Termoli il 29 settembre scorso, quando i poliziotti hanno denunciato sei persone in concorso tra loro per i reati di lesioni aggravate e omissione di soccorso. Gli indagati, alcuni di etnia rom, indussero la parte offesa a partecipare a una scazzottata fuori legge, mettendo in palio 50 euro. Al diniego di questi lo picchiarono a sangue, causandogli lesioni gravi e abbandonandolo sul posto. E la polizia di Termoli ha eseguito nei giorni scorsi un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Larino del divieto di avvicinamento alla parte offesa nei confronti di un presunto stalker termolese di 43 anni. Dalle indagini risulta che minacciava e aggrediva la sua ex dalla quale si era separato. Un atteggiamento persecutorio che le avrebbe causato un grave e continuo stato di ansia e paura per la sua incolumità. L'uomo è emerso, la seguiva costringendola a fermarsi e la ingiuriava anche in presenza di altre persone. In un'occasione l'avrebbe aggredita davanti ai familiari, facendola cadere e causandole ferite. L'uomo di 43 anni ora deve rispondere per atti persecutori, lesioni personali aggravate e violenza sessuale e non potrà più avvicinarsi all'ex coniuge e ai luoghi che lei frequenta. Andiamo ora all'Isis Majorana Fascitelli di Isernia dove è stata proposta una lezione diversa dal solito. I ragazzi hanno infatti incontrato Vittorio Nocensi, fondatore del gruppo musicale Banco del Mutuo Soccorso e c'era per noi Sergio Di Vincenzo. Una tastiera al posto dei libri e nessun professore in cattedra a fare lezione. Durante l'incontro con i ragazzi dell'Isis Majorana Fascitelli di Isernia, Vittorio Nocensi, fondatore del gruppo musicale del Banco del Mutuo Soccorso, ha preferito adottare uno stile comunicativo informale. Ha parlato senza filtri, ha trasmesso emozioni e spunti per riflettere usando un linguaggio immediato che arriva dritto al cuore, quello della musica per l'appunto. È sempre stata fra le varie arti quella che arriva più viscerale, che arriva più bypassando la parte intellettiva, razionale, quindi va immediatamente a rivolgersi verso la parte più intima, quella che emoziona, quella parte dove ci sono i nostri sogni, la nostra parte più pudica, più riservata. I ragazzi sono entrati subito in sintonia con il leader del Banco del Mutuo Soccorso, confermando così la bontà della scelta del dirigente scolastico Carmelina Dinezza e dei docenti Domenico Biello e Roberto Nunziata di promuovere un incontro diverso dal solito, ma arricchente per tutti, reso possibile dal lungo rapporto di amicisia tra Nocensi e il musicista esernino Enzo Di Lozzo, ex tastierista del Tratturo. L'incontro è spaziato a tutto campo, da Dante ai problemi che affliggono la nostra società, da Bacca e Pink Floyd, passando per le tele di Bosch. Ed è proprio questa per Nocensi la chiave che può favorire un confronto costruttivo tra generazioni. La musica ci può dare la possibilità di tradurre i saperi fondamentali della nostra identità nazionale, letteratura, storia, materie scientifiche, in un modo che le nuove generazioni che sono passate armi e bagagli dal codice alfabetico lineare a quello audiovisivo, cioè da leggere e scrivere, ascoltano e vedono. Se noi traduciamo i saperi fondamentali della nostra cultura, nel loro linguaggio non si perdono. Padre Giustino Casciano è il nuovo priore provinciale degli agostiniani d'Italia, nato in Molise, 64 anni. Casciano è l'attuale priore della Basilica di San Nicola a Tolentino e subentra padre Luciano De Micheli. L'elezione è avvenuta a Roma, il neopriore della provincia agostiniana d'Italia non ha ancora deciso se il nuovo incarico lo svolgerà nella capitale o resterà nelle Marche. Anche alla luce del sostegno necessario ha spiegato il priore di cui ha bisogno non solo Tolentino ma l'intero centro Italia ferito dal terremoto. Tra i tanti incarichi ricoperti da padre Casciano si ricordano quelli svolti a Pavia, Cascia e Gubbio. Una notizia per i giovani che cercano lavoro. Sulla gazzetta ufficiale è stato pubblicato il concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione di 66 allievi ufficiali all'Accademia della Guardia di Finanza per l'anno 2020-2021. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le 12 del 21 febbraio. Possono partecipare i cittadini italiani che abbiano alla data del 1 gennaio 2020 compiuto il 17esimo anno di età e non superato il 22esimo. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata esclusivamente mediante procedura telematica. Avvocato, notaio o magistrato, la strada delle varie professioni legali apre un ventaglio di opportunità per i giovani che si avvicinano agli studi universitari. A Termoli un convegno con gli esperti promosso dalla Camera Penale di Larino e dall'Associazione Terra dei Padri c'era per noi Fabrizio Occhio Nero. Giovani, diritto e la strada delle professioni legali, un percorso non semplice, tanto studio, competenza e soprattutto esperienza dentro e fuori le aule dei tribunali. In tanti, soprattutto studenti delle scuole superiori, hanno affollato la Sala del Cinema Sant'Antonio di Termoli per un incontro formativo organizzato dalla Camera Penale di Larino e dall'Associazione Culturale Terra dei Padri, così Alessandra Piscitiello, magistrato della Corte d'Appello di Napoli. Perché diventare magistrato? È perché è un impegno bellissimo, sicuramente è un ruolo impegnativo, è un ruolo in grande impatto sociale, ci si deve credere perché soprattutto è un grande sacrificio personale, non è una posizione di potere ma è un ruolo che consente di lavorare per i cittadini e quindi di credere nella giustizia e di svolgere diciamo al meglio la propria professione. Il programma moderato dall'avvocato Roberto D'Aloisio, presidente della Camera Penale di Larino, ha previsto i saluti di Franca De Santis, presidente dell'Associazione Terra dei Padri, che punta sulla promozione e la diffusione della cultura italiana e di Gabriella Degno Vivo, vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Larino. Al contributo della dottoressa Piscitiello sono seguiti gli interventi del notaio Luigi Monti e dell'avvocato Paola Cecchi del Foro di Larino. Come si diventa notaio? Si diventa notaio tramite concorso nazionale a Roma, un concorso unico, un concorso ci tengo a dirlo, molto meritocratico e democratico, cioè permette a tutti i laureati in giurisprudenza che abbiano poi fatto la pratica di accedere, di partecipare. Quindi il notariato è una professione a numero chiuso, sì, ma aperta, ma aperta a tutti. Non basta una laurea in giurisprudenza, a parte insomma il fatto che è necessario proprio per avere il titolo di studio, ma al di là del titolo di studio è necessario che il neolaureato aspirante avvocato abbia effettivamente un taglio pratico, cioè debba veramente partecipare praticamente alla vita in udienza. Teniamo presente che siamo in un periodo di rivoluzione digitale, quindi la figura del legale non è strettamente legata all'udienza e finisce lì. Ci sono anche tanti altri settori, se solo pensiamo al GDPR, il regolamento sul trattamento dei dati personali e della riservatezza, riscontriamo l'importanza di un legale che si dedica proprio alla normativa sulla riservatezza, oltre al fatto che poi ci sono delle piattaforme dedicate anche ai contratti online, sono tante le figure che possono avere importanza legale. E con questo interessante convegno organizzato dalla Camera Penale di Larino e dall'Associazione Terra dei Padri a Termoli termina anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Vi saluto come sempre, grazie perché scegliete Telemolise. Buonanotte. Buonanotte.